e di aver requisito un provviso da Aneric, un interlocutore dal dottor Paredo, che stai in un'unica situazione di questa, e un'altra? Allora, ci sono dei requisiti, come ho detto, per l'accesso e dei requisiti di carattere comuni, professionale dei requisiti di carattere morale, quando riguarda i requisiti di carattere e di aver sostenuto un corso specifico per l'evisore comuniale e un pressomente acqueditato dall'associazione. Per quanto riguarda i requisiti di carattere un titolo di studio minimo di Roma, per quanto riguarda i requisiti di carattere morale, per l'innovazione di carattere penale. Quindi rispetto basta un diploma, non è necessaria la laurea.